Buon sabato a tutti, oggi è il 6 luglio, come di consueto iniziamo a fare che cosa, a prepararci per la prossima settimana perché un buon trader, un buon analista devono iniziare a guardare i cicli superiori per capire quale sarà il trend principale, se saliremo, se scenderemo, per quanto tempo e quindi che cosa vedrai in questo video. In questo video ti farò vedere che siamo andati a target ancora una volta rispetto alla previsione precedente che puoi sempre vedere sul canale, sul primo canale di analisi evoluta in Italia, non soltanto di analisi evoluta ma anche di analisi ciclica con oltre 16.800 iscritti, oltre 3.200 video per vedere se sono un fuffaguru oppure se so il fatto mio e l'evoluta funziona. E successivamente andremo a fare direttamente le analisi, le considerazioni per capire per quanto tempo possiamo ancora continuare a salire e individuare come invece, quando potremo iniziare a scendere, quali saranno i primi campanelli d'allarme. Ok? Ricordiamoci innanzitutto che il cosiddetto selling may and go away anche quest'anno non è stato corretto, è una diceria. Infatti se avessimo venduto all'inizio di maggio magari, quando abbiamo visto un inizio di chiusura, allora se avessimo venduto all'inizio di maggio avremmo perso tutta questa salita che poi abbiamo fatto. Maggio, ok, da qui a qui, avremmo perso quasi un 10% di guadagno possibile. Seconda cosa, se avessimo venduto anche soltanto verso fine maggio, per sicurezza, vediamo anche quello, in ogni caso avremmo perso quasi un 6% di guadagno. E adesso andiamo a vedere che cosa raccontavamo nella precedente analisi, giusto? Nell'esempio di 500 raccontavo che era corretto continuare a ragionare di che cosa? Di una salita. Perché? Per il fatto che eravamo, anzi, siamo ancora su un mensile inverso che, anzi, pardon, Dicevo che se fossimo iniziati ad andare sotto questo livello, avremmo potuto iniziare, se avressimo avuto chiusure stabili sotto questo livello, avremmo potuto iniziare a scendere perché avremmo arrivati effettivamente a questa candela. Se invece non saremmo andati qui sotto, avremmo continuato con il nostro ciclo mensile inverso. Che cos'è un ciclo mensile inverso? Per chi non lo sa, basta andare sul canale analisi-evoluta.it.com, cliccare su questo tasto e andare a richiedere gli appunti di base gratuiti, la guida per partire con l'analisi ciclica, piuttosto che, per chi ha già imparato l'analisi, entrare nel gruppo premium. Chi vuole ulteriori possibilità di comprendere che cosa sia questa analisi e perché ci permette di andare in target così tante volte, basta andare sempre sul sito alla voce playlist Trading Days, in modo da poter fare un corso fatto da oltre 33.000 persone, ma concluso soltanto da 8.000, 8, 16, 24, 32, soltanto un venticinquesimo capisce, anzi, ha voglia di andare a controllare tutto quello che può fare e tutto quello che può imparare con un metodo non discrezionale, quindi non a mia discrezione, ma che tutti possono controllare se funziona oppure no perché ha delle regole matematiche. Ritornando a noi, perché vi dicevo che scendendo sotto quel punto stabilmente avremmo potuto iniziare a scendere? Perché eravamo già arrivati a 24 bar, la durata minima di un mensile, qui avete sempre la leggenda, mi raccomando. Questo mensile poteva o iniziare a chiudersi e a chiudere con esso anche il T3 inverso, il trimestrale inverso, iniziare appunto una discesa, ma se avessimo violato questo minimo e fossimo continuati a scendere, avessimo continuato a scendere lì sotto, dato che non è stato fatto, potevamo continuare a salire per quanto tempo? È facile dare questa risposta, se non la sai basta guardare la tabella, massimo 43 giorni. E noi a quanti giorni infatti siamo arrivati? Siamo arrivati a 29 giorni che ci avvicina a un tempo medio di durata di un mensile. Quindi già con questa informazione, rispetto a qualsiasi tipo di altra tecnica che gli dice siamo in un canale scendente ma non sappiamo quando andremo in violazione del canale stesso, quando inizierà una fase di scensiva o altro, con l'analisi ciclica evoluta e noi abbiamo, come al solito, un elemento fondamentale che gli altri non hanno. Il tempo. Noi sappiamo che al massimo si potrà continuare a salire fino a 43 barre di durata. Siamo già su un raccordo inverso, quindi non ci possono essere poi scherzi, e che quindi potremo eventualmente continuare ad andare su a trovare un top assoluto a onde, un po' di discesa, molta più salita, fino al 25 di luglio. È un'informazione utile? E tutte le volte che faremo un movimento potremo controllare se invece inizia ad esserci una discesa. Perché? Perché anche in questo caso, se noi andiamo a prendere dall'ultimo massimo fatto, da questo massimo all'ultimo massimo fatto, abbiamo 11 barre, che sappiamo di nuovo sulla leggenda del 15 minuti, che è la massima durata di un ciclo settimanale, la minima è 6. Anche in questo caso matematica non opinioni, non se la Fed taglia succederà questo se è... No, matematica. Qui, infatti, è importante capire però una cosa. Cosa è successo qua? E torniamo sul grafico a 15 minuti. Non è che abbiamo fatto un terzo T che ha chiuso qui, terzo settimanale inverso, qui trovate sempre la leggenda, e poi ci siamo già vincolati per continuare a salire per almeno altri 6 giorni, se è iniziato il quarto settimanale inverso? Ecco, di nuovo basta controllare, se avremo sotto questo massimo almeno 48 barre prima della sua violazione, è possibile. Se avremmo avuto una violazione di swing per la partenza di questo nuovo settimanale inverso, avremmo avuto una conferma. E quindi sì, la conferma c'è. Per questo motivo che cosa succede? Prudenzialmente ci diremmo che così di nuovo a 11 barre abbiamo in ogni caso un settimanale inverso che dura appunto 11 candele giornaliere, 11 giorni, perché il time frame è sempre un giorno, e quindi avremmo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un mensile. Scusate, un settimanale, un mensile. Tutto il raccordo timestrale venire giù. Quindi iniziamo a metterci un allarme, se vuole venire giù? Perfetto, lo rimettiamo esattamente nel punto in cui l'avevo messo la scorsa settimana, a 5.447,59. 5.447,59. Se andremo qui sotto, andremo qui sotto in pianta stabile, si può iniziare un forte storno di mercato. Molto forte, tra l'altro. Se invece non andremo qui sotto in pianta stabile, di nuovo è uguale alla scorsa settimana, e noi possiamo continuare a salire in due modi. Primo, due giorni sotto un massimo, e poi il ritorno sopra questo massimo assoluto, se avremmo avuto il ciclo settimanale chiuso, perché chiuso un ciclo settimanale a 11 barre, possiamo avere, per farne partire un altro, almeno due giorni sotto un massimo, e poi se ritorniamo sopra quel massimo, ci vincoliamo esattamente come abbiamo fatto questa volta. Vediamolo nel dettaglio. Come succede? Succede così. Per far iniziare un nuovo ciclo settimanale, devo rimanere almeno per due barre sotto un massimo, questo massimo ad esempio, poi se ci torno sopra, prima ovviamente della sesta barra, ho un vincolo, e quindi posso continuare a salire per il tempo residuale del ciclo settimanale. È successa la stessa cosa anche con questo massimo. Con questo massimo siamo stati uno, due, tre giorni sotto, poi siamo saliti e possiamo avere il vincolo per salire ancora un giorno, come minimo. Abbiamo anche un target, tra l'altro, ma questo magari ne parlerò nel gruppo premium. In ogni caso, può succedere la stessa identica cosa da adesso in avanti, ossia, se vedremo una discesa di almeno un paio di giorni sotto un massimo, e poi ritorneremo sopra, continueremo il nostro ciclo mensile fino ad esaurire il tempo e fino quindi ad arrivare a quanto, ti ricordi, fino a 43 barre, ok? Tempo massimo di un ciclo mensile. Viceversa, dovessimo iniziare a perdere potenza, e noi abbiamo questo allarme che ci dice, ok, perfetto, si può iniziare a scendere. Si può iniziare a scendere per quanto tempo? Per tanto tempo. Veramente tanto tempo. Prima di tutto, lato indice, perché noi abbiamo solo visto i cicli di inverso, quindi abbiamo soltanto visto movimenti da massimo, minimo, massimo, 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 minimo, massimo e via di seguito. Adesso vediamo i cicli lato indice, che sono da minimo, massimo, minimo e via di seguito, minimo, massimo, minimo. Noi siamo su un ciclo... Allora, su che ciclo siamo? 52 giorni mi servono per dare vita persino fino a un ciclo semestrale, anzi, con 52 siamo già in trimestrale anche di più, ma siamo su un primo semestrale e questo è il secondo semestrale. anzi, andiamo ad aggiornarlo in modo da mettere le cose sempre in maniera più semplice in modo che siano più comprensibili a chiunque guarda il video anche per la prima volta. Qui siamo già su un semestrale fatto e finito, nel senso che abbiamo tutte le condizioni per la sua partenza perché abbiamo più di un ciclo mensile rialzista, più di 24 giorni sopra questo minimo, che sono le due condizioni insieme allo swing, che è la condizione insieme allo swing per far partire appunto un ciclo mensile. A un certo punto però è un ciclo semestrale. A un certo punto però chiudono i cicli, per chiudere ci va un ribasso. Per iniziare a chiudere un mensile bastano 3 giorni di ribasso, quindi abbiamo avuto di più, quindi abbiamo fatto primo mensile. Per chiudere il secondo mensile è stessa identica cosa, ci servono a meno 3 giorni di ribasso, un ciclo di 3 gradi inferiori ribassista, T più 2 mensile meno 3 gradi inferiori fa T meno 1, un T meno 1, come sappiamo dura minimo 3 giorni, 3 giorni a ribasso, quindi facendo un ciclo così, che parte da un minimo, sviluppo massimo, ma scende sotto. Quindi a questo punto, ritornando qui, che cosa ci serve? Ci servirebbe discesa, ma non soltanto per chiudere un ciclo mensile, ma anche per chiudere un ciclo trimestrale, perché questo è il secondo mensile di questo trimestrale, e anche in questo caso, togliamolo pure a questo punto di domanda, mettiamo ormai che siamo in verde, e ricordiamoci che quindi raddoppiano i tempi di chiusura, non sono solo più 3 giorni, ma diventano 6, e 6 quali? Che cosa significa? Dobbiamo avere un settimanale vincolato ribasso. Volete vederlo disegnato? Ecco qua. Parto da un minimo, salgo sul massimo, e scendo. Questo è un vincolo, è un settimanale ribassista, vincolato a ribasso. A questo punto, quindi, ci serve l'indice. Sull'indice abbiamo, per il primo mensile, possiamo dire di aver fatto un 10 barre, ci sono altre centrature, più un altro 10 barre. Da qui può essere partito, e adesso lo aggiorno in temporale, in modo che tutti lo possano vedere, un terzo ciclo settimanale, terzo T, che è arrivato a quanti giorni, quante barre? 1, 2, 3, 4. Per adesso a 4. Volessimo chiudere tutto il primo trimestrale, che cosa dovremmo fare? Dovremmo tornare qui sotto. Semplice, giusto? A quel punto, però, se ci arrivassimo molto a fatica, non è che combineremmo moltissimo. Inoltre, se qui abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente, che vi dicevo la scorsa volta, per la chiusura di tutto, un ciclo annuale, inverso, con raccordo, mi aspetterei un pochino più di discesa, ma proprio tanta di più. Anche perché, lato indice, ricordo sempre, di andare a vedere la precedente analisi. Perché? E perché, non chiude soltanto un annuale, ma un ciclo, può chiudere un ciclo quadriennale. Se chiude un ciclo quadriennale, ha bisogno di, che sottociclo ribassista, per chiudere, ti rimando alla precedente analisi, perché, a questo punto, tutti dovrebbero sapere la cosa. Per questo motivo, cosa facciamo la prossima settimana? Arriviamo all'ultima parte di questo video. La prossima settimana, appunto, abbiamo un allarme, che ci permette di capire, se inizieremo effettivamente a scendere. Attenzione che, la condizione minima, è un settimanale ribassista, per chiudere, tutto un, primo trimestrale, di questo semestrale. Ok? Per cui è un minimo. Quanto dura un ciclo mensile? Dura massimo 43 giorni. Se iniziamo ad anellare settimanali ribassisti, iniziamo a dare spazio alla possibilità, per l'inverso, di iniziare a far scendere, di iniziare a scendere in maniera estremamente forte, per chiudere, per far iniziare, voglio dire, un nuovo ciclo annuale, o persino qualche cosa di più. Esattamente come è paventato nella precedente analisi. Siamo andati sotto il minimo? No, quindi non è iniziato ancora nulla. Andremo sotto il minimo? Penso che lo terremo assolutamente caro, anche per vedere, soprattutto, se siamo ancora sul terzo settimanale inverso, che è la condizione di chiusura, appunto, non soltanto del mensile, ma anche del trimestrale inverso, di questo raccordo, poi veramente, allacciate le cinture. Come di consueto, la scelta di che cosa fare, da adesso in avanti, spetta a te, che cosa farai? Inizierai ad imparare questo metodo statistico, matematico, non discrezionale, per poter fare analisi, e guadagnare, come facciamo noi, nel gruppo premium, oppure non schiaccerai il tasto? Seconda cosa, vorrei venire a fare pratica, per comprendere se hai capito la teoria, entrando nel gruppo premium, e facendo trading direttamente con me, vedendo le operazioni che faccio io, oppure ti accontenti del trading che fai, perché se hai dei risultati validi, se non li hai, ragiona. Direi che ci siamo, ti auguro un buon sabato, e mi preparo per la prossima analisi, che sarà quella di Ethereum. Buona giornata, e buone riflessioni.